Si è tenuta venerdì 28 aprile a Milazzo la seduta straordinaria aperta per trattare problematiche inerenti le carenze organiche dell'ospedale con riferimento al pronto soccorso, ai reparti ed interventi di pianificazione previsti. Ai lavori richiesti dal sindaco Pippo Midili sono stati invitati i rappresentanti della Commissione regionale Sanità, i deputati regionali e i vertici dell'ASP provinciale. Durante la riunione straordinaria del civico consesso il sindaco di Milazzo ha illustrato delle proposte alternative idonee a sopperire ai lavori di ristrutturazione del pronto soccorso al fine di consentire la giusta e adeguata assistenza ai cittadini tutti. L'incertezza totale è venuto il commissario dell'ASP mesi fa dicendo che doveva essere trasferito il pronto soccorso da Milazzo a Barcellona creando una situazione di panico e di grande disagio per tutta la comunità. Non dimentichiamo che il pronto soccorso di Milazzo è presidio per oltre 27 comuni per cui la conferenza dei sindaci nella programmazione dell'ASP interviene garantendo anche determinate linee guida perché sia garantita la salute sul territorio. Oggi questo è inaccettabile, noi non facciamo spostare il pronto soccorso non per un giorno, per un'ora, non verrà spostato anche se dobbiamo attivare, ci attiviamo per situazione di incadenamento davanti all'ospedale stesso in segno di protesta. Quindi il pronto soccorso non deve essere spostato neanche provvisoriamente? Assolutamente no perché ci sono condizioni diverse. L'ASP intervenga perché crei una posizione di pronto soccorso alternativa a quello attuale all'interno dell'ospedale. Si era parlato di sistemare un reparto, l'ex psichiatria, oggi mi dicono che i costi sono esosi e non può essere fatto. Tutto questo è inaccettabile. Dal Consiglio Comunale di oggi emerge un'azione comune con l'amministrazione comunale? Io mi auguro che possa emergere qualcosa perché c'è una rappresentanza anche di deputazione regionale. Sono l'ora ad avere l'ultima parola nel senso per fare intervenire chi di competenza, cioè il Presidente della Regione e l'assessore regionale. Poi da lì andiamo a verificare tutte le posizioni di ognuno di noi, delle istituzioni, del Sindaco, del Consiglio Comunale e di tutti.